Buonasera, visto che ci siamo appena svegliati da una morte Allora ragazzi, vi ricordate ieri no? Il finale, quello speciale Della rottura della struttura dello spazio-tempo, no? Ok, ora dobbiamo soltanto riprendere da quel punto, però senza fare quel finale Allora, ritorniamo subito al pianeta qui, perché mo dobbiamo andare proprio di corsa Dai, Cristo a te, ma Io rimango veramente senza parole Rimango senza parole Voi sapete, non è il detto, donna al volante pericolo costante Ecco, immaginate invece su, sull'astronave, pericolo di, ecco, di meteoriti costante Sì, perché sarei io direttamente un meteorite Ok, siamo arrivati Riprendiamo subito con lo shortcut Eccoci qua No, no, fermati Cristo A te All'accio Beh, comunque salva a tutti, eh Salva anche a chi sta arrivando in questo momento Ciao, placcone Che c'è Ti sta piacendo Outer Wilds? Ok Ma io penso che a questo punto posso mettere grafica Sì, delle texture piene Sì, sì A questo punto credo proprio di sì Allora Qual era il Ecco qua il laboratorio No Cavolo, è vero che mo ci sta pure il problema Che dobbiamo aspettare un poco, madonna mia Mi ero proprio dimenticato di questa cosa Vabbè Ma saccarazzo, ci sta un motivo se io non ho la patente Io non so se ci sta la possibilità di poter Non so se ci sta veramente la possibilità di poter evitare la sabbia Ma ne dubito fortemente Fortemente Ah, se ti trova 30 secondi Azza Quindi praticamente ci stai guardando dal passato Caro plac No, niente da fare, oh Dovrei per forza aspettare in questo buco Eh vabbè, aspettiamo La pazienza E la virtù dei forti, no? Una volta ogni tanto Spero Eh, in una sabbia un po' più veloce Bella, è in eco È come la sabbia in spiagge, no? Peccato che io la sabbia l'ho sempre trovata insopportabile Perché quando esci dal mare La sabbia si appiccica sui tuoi piedini E dà piuttosto fastidio Uno dei motivi perché Odio Andare a mare Mamma mia Ammetto che mi sento un po' più scemo Unito del solito Perché mi sono svegliato da pochissimo Sì, me l'ho fatto con quell'oretta di sonno Raga, perché ne avevo bisogno Perché Come avevo detto ieri Io stasera non ci sarò Io andrò in un pub A mangiare parine e patatine fritte Quindi fare una bella scorpacciata Ah, i piedini impanati Hai capito, Black? Ah, come le cotolette E va No, nego Sto con Sto con mio fratello La sua ragazza È un amico di mio fratello La mia ragazza purtroppo sta Sta fuori casa Alias sta nella sua città Che palla Ah, qua però Ora starò attento Perché Eviterò di bucherellare la mia tuta spaziale Uè, Stefi Stavamo proprio parlando di te E dei tuoi piedini impanati Nella sabbia Vai, Stefi Condividili con me Non essere Non essere Tirchia Spero di prendere la strada giusta Sì, era qua Evitando accuratamente quella trappola E che sarà, Maestefio? Basta andare al mare, no? Presumo che disterà Qualche minuto di camminata Ok Eh, Cristiano Eh, solite cose Grazie per il pensiero Comunque di aver chiesto come sto Allora Siamo finalmente al laboratorio E ora possiamo finalmente Informarci un po' Di quello che c'è qui Allora Secondo i registri Inomai sono arrivati Al ricevitore della curvatura Su vuoto fragile Poco prima di partire Dalla stazione del buco bianco Rami e io stiamo mettendo a punto Un esperimento per verificare Se si tratta di un fenomeno reale O di un semplice errore Delle apparecchiature Punto numero uno Nella fase iniziale del nostro esperimento Abbineremo il nucleo Di un piccolo buco nero Con quello di un piccolo buco bianco Quindi voi ragazze Se volete potete Offrirvi volontari Per il buco nero Poi magari un'altra Per il buco bianco Per simulare cioè Che accade Sulla stazione del buco bianco Ipotesi È possibile che un oggetto Esca da un buco bianco Prima che entri nel buco nero Corrispondente In teoria Quello che vogliamo provare A riprodurre È una quantità Negativa di tempo Che passa tra il momento In cui qualcosa Entra nel buco nero E quello in cui esce Dal buco bianco Un aggiornamento Con l'esperimento Che abbiamo effettuato Abbiamo riprodotto L'anomalia Dei tempi d'arrivo e di partenza Ma poi è convinta Che si tratti solo Di un errore strumentale Sper di potenziale L'effetto Anche per i non addetti Ai lavori Ah Plak Quindi tu conosci La tecnica Dello sbiancamento No? Che molte cosplayer Fanno in realtà Sul loro Bucchettino Sul retro Per farlo Abbiamo deciso Di provare Ad aggiungere più energia La fornitura di energia Della città ombra Dovrebbe essere sufficiente Annotazione per Rami E Rav chiede Di informarlo Prima di renderizzare Il flusso di energia Al sito dell'esperimento Non potrei mai Lasciarlo abbrancolare Nel buio Tutta l'energia Disponibile È stata dirittata Dalla città Al sito dell'esperimento Rami e io Stiamo per avviare Un nuovo test Ipotesi confermata Ipotesi confermata È assolutamente Stupefacente Questo risultato Cambia tutto Che giorno Meraviglioso Teoria Astratte applicazione Pratica Si congiungono Questo mi sa Che si collega Pure a quello Che abbiamo fatto Per il finale Ieri Ah queste Saranno informazioni Molto importanti In realtà Ok iniziamo a leggere Da qui Dall'osservatorio Sud ci chiedono Se sia possibile Creare un intervallo Di 22 minuti Ovvero Far arrivare Un qualcosa 22 minuti Prima Che venga Effettivamente Inviato Tramite la curvatura Sappiamo che è possibile Incrementare L'intervallo Negativo Tra la partenza E l'arrivo Aggiungendo Maggiore energia Al nucleo Di curvatura Il problema È che l'energia Necessaria Per estendere L'intervallo Aumenta Con un ritmo Esponenziale Creare un intervallo Di 22 minuti È possibile Ma al momento Non siamo al corrente Di come generare L'energia necessaria Da mio Crediamo Che bisognerebbe Inventare Un nuovo metodo Per riprodurre Energia Un'impresa Emozionante Ma immensa Avremo anche Il bisogno Di una tecnologia Di curvatura avanzata In grado Di gestire Una tale energia In questi 22 minuti Si collegano Appunto A quando Ci risvegliamo No? Cioè Quei 22 minuti Di giocata Prima della morte Ci servirebbe Anche uno spazio Enorme Per ospitare Queste ipotetiche Nuove tecnologie L'unico luogo Grande Abbastanza Sarebbe Il gemello Cenere Hai detto Non siamo al corrente Di come generare L'energia necessaria Se non spasso Pai Hai visto Stefi Siamo molto informati Tu del solito Il progetto Gemello Cenere Sarà una delle nostre Imprese più grandi Metaforicamente E fisicamente Per realizzarlo Dobbiamo trovare Un modo per viaggiare Velocemente Tra gemello cenere E qualsiasi E qualsiasi altro luogo Offra materiali Indispensabili Per il progetto E se usassimo Delle torri Di curvatura Come quella Come quella che abbiamo Sulla stazione Del buco bianco Per collegare Ogni pianeta Direttamente A gemello cenere Io A poche rutto Possiamo iniziare A lavorarci Immendiatamente Nella forgia Del buco nero Così ci terremo Impegnati Ogni torre Su gemello cenere Porterà a curvatura Verso un pianeta Diverso Tutta la mia gratitudine A chi ha notato L'imprecisione Di linguaggio Sì Il sole Non è un pianeta Credo che questo Sia stato sufficientemente Chiarito Ma va Possiamo progettare Ogni torre In modo che Rifletta visivamente La sua destinazione A curvatura La torre di profondo Gigantesco Per esempio Potrebbe ricordare Un ciclone E potremmo modellare La torre di cuore legnoso In modo da farla Assomigliare A un geyser montano Allora Vedete Queste sono Le varie torri In poche parole Come posso dire Vari Teletrasporti Che noi possiamo Adoperare Questa porta Dovrà rimanere Chiusa per un po' Di tempo Poi stiamo Lavorando Un esperimento Basato sulle Stradinarie Scoperte Fatte Sulla stazione Del buco bianco Un aggiornamento In laboratorio Alta energia Al momento Utilizzato Per realizzazione Del progetto Gemello Scenere Se volete Collaborare O anche solo Osservare Per entrare Nel laboratorio Usate il sendero Vabbè Questo l'abbiamo fatto Sì Questo l'abbiamo fatto Comunque Dalla Dalla città ombra Qua si potrebbe Mostrare Qualcosa Però Mi sembra Di non aver trovato Nulla sotto Sono sincero Fammi di controllare Un attimo Vincent Dalla città ombra Dove stavamo Prima Sotto a tutto Quindi l'abbiamo Già visitata Strano che non ci sia Nulla Per mostrarlo In quella Specie di proietture No Molto strano Veramente Molto strano Beh non è che sia Proprio fondamentale Allora Io non so se adesso Possiamo morire Perché comunque Abbiamo ottenuto Diverse informazioni Ma io direi di sì Sinceramente Non credo che Mi interessi più di tanto Però aspetta Vediamo un po' Ah giusto Ci sa il tizio Il viaggiatore che sta qui Parliamo con lui Un attimo Madonna mia Poi il sole Che gira intorno a lui Quanto cazzo Mi spaventa Ragà guardatelo Quanto è felice Il filo Sembra 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 A forma di Cioè Sembra avere la testa A forma di uovo di Pasqua No Mentre Cioè Mentre vediamo Sto bellissimo sole Che comincia a ingrandirsi Sempre di più Per poi esplodere No E lui invece è tranquillo Non ha paura di niente No 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 Santo Spazio Sei tu Salve Mi pare di capire Che il tuo primo lancio Si è andato bene Ti do il benvenuto Sui gemelli Cressidra Attenzione alla sabbia Dunque Magari fosse solo Quello il problema Scoglio Conno Mi ha chiesto di aggiornare Le nostre mappe stellari Per cui sono qui Per eseguire delle osservazioni Devi sapere che questo È uno dei posti migliori Del sistema solare Per l'avvistamento Di eventi astronomici La cosa strana È che oggi ho individuato Ben due supernove Solitamente Solo vederne una È un colpo di fortuna Guarda le stelle Tendi gli occhi ben aperti Magari riuscirei Ad avvistarne una Anche tu Allora Ho trovato qualcosa Ho trovato le tue annotazioni Sul creatore più grande di Sfrido Vabbè Spero che ti siano state utili Parla di questo pianeta Robo oscuro Che si è distrutto nel tempo Ah intanto Abbiamo ottenuto anche Delle informazioni Ah qua sta parlando Il fatto che Stanno avvenendo Troppe supernove Vedi Cioè Leggete qua Dieci o forse Ma ora Questa cifra È raddoppiata E questo non è normale Non è assolutamente normale Le stelle con più massa Concludono il loro ciclo vitale Diventando delle supernove Per cui è possibile Che le stelle Siano più antiche Di quanto pensassimo O forse Ci stiamo attenendo A dei modelli sbagliati Il loro ciclo di vita Non è così lungo A dire tutto Non mi piace nessuna Delle due opzioni Se le nostre mappe Sono sbagliate Cos'altro potrebbe essere Andato storto E il nostro sole Eh Purtroppo anche il nostro sole Sta facendo caccia con la manina Questa è un'informazione importante Cioè Siamo Cioè abbiamo capito Che l'universo Sta per Sta per morire Perché le varie stelle Stanno esplodendo Tutte quante Ah Qua parla della luna Che appare Scompare Ho trovato la luna quantica In orbita Attorno a tutti e cinque pianeti A volte sembra Scomparire del tutto Forse si sposta In qualche altro luogo Ma sfortunatamente Anche se c'è Non l'ho mai visto Magari studiando meglio Con queste mappe stellare Ok Vediamo che poi si dice altro Però sto cercando di scoprire Cosa sta succedendo alle stelle Ci sono molte Anzi Troppe supernove Perché tutte queste stelle Stanno scomparendo Non avevo mai visto Nulla di simile Frangamente Tutto questo mi preoccupa E mi spavento un po' Quindi se qualcuno pensava Magari possiamo allontanarci No Per evitare di morire Sarebbe inutile Perché prima o poi Cioè L'universo farà una brutta fine Non ho mai lasciato Il letto asciutto Di questo lago Non per vantarmi Ma me la cavo piuttosto bene Con un piccolo scatto E sto fotografando tutto Senza dovermi muovere Dal mio accampamento Hai visto la zona Dove c'è Quell'antico relitto Nell'emisfero sud Di Gemello Braci Quello che proietta Un fascio di luce Nel cielo Sorprendentemente Non si tratta Il lancio fallito Di uno dei nostri Ma di una nave Non mai Ah si La cosa di La scelupa di emergenza Eh chissà dove vivevano Questi nomai Sì Steffi Che bello No Meno male che siamo vivi In questo momento Per morire Di morte naturale Si spera La sabbia scorre Da Gemello Ceneri In direzione Di Gemello Braci Ma sappiamo che il processo Potrebbe essere invertito Non sono ancora sicuri Del perché la sabbia scorre Tra i gemelli Ma sembrerebbe Un fenomeno naturale Ok Grazie Ok Mi ho trovato anche Delle informazioni Del tipo Che la sabbia Che sta cadendo Di qua Lascia spazio Al Come si chiama All'altro pianeta Ora dove sta la navicella Cavolo sta lì Proprio dall'altra parte Ah Aspettate Eh no Sta proprio dall'altra parte Andiamo a sfruttare Questo momento Ecco vedete C'è la sabbia Che sta lì Si sta spostando qua Quindi credo Che questo sia Il momento giusto Per spostarci Tant'abbiamo ancora Un po' di tempo Giusto un po' eh E siamo un attimo Attenti Che sono questi Non si risucchi Porca di quella Puttana E lo sapevo Che sarebbe successo Mannaggia Che culo Che non mi hanno risucchiato Totalmente Dall'altra parte Fan culo Fan culo Per davvero Allora ragazzi Questo potete già capire Pure dall'estetica Questo ci Teletrasporta Direttamente Al nostro pianeta Quindi non ci interessa Ci interessa Un'altra torre Mannaggia No Porca di Madonna mia Ma perché sto facendo Questi errori Come un imbecille Qua invece Dove ci portava Un attimo leggere Che dice qua Ecco la nostra Prima consegna Ok Appena sfornato Alla forgio Del buco nero Ok ragazzi Questo ci porta Praticamente Allora vi ricordate Che noi siamo saliti Sopra Cioè dove stavete Il pennete col buco nero Noi eravamo saliti sopra Tramite quella Quella tecnologia No Si poteva arrivare Lassopra Anche da qui In realtà Però io avevo fatto Una specie di scorciatoia Ok con questo Il progetto gemello Ce n'era avviato Confesso che sono Molto curioso Di sapere Cosa avete trovato Tu e poco Sulla stazione Del buco bianco Che ha avviato Questo progetto L'azione del buco bianco È il modello delle torri Ok però Non ci interessa Andare lì onestamente Yaro Aspetta Aspetta Che dice qui Che dice qui E' passato E' passato il tempo Dall'ultimo Ah ecco ragazzi E questo ci porterà Alla stazione solare Poi vi ricordate No che non possiamo Arrivarci normalmente Perché il sole Ci scioglie In realtà ci sarebbe Un metodo Però è complicato Useremo questo Teleport La mia valutazione È che l'esito Del nostro progetto Sarà deflagrante Sì in caso Di fallimento Che di successo Poi sebbene Che non lo trovo Divertente Passare del tempo Lontane dalla stazione Potrebbe giovare Entrambe Mi interessa immensamente Poter testare La tua ipotesi Yaro E almeno su questo Possiamo dire Di essere d'accordo Davvero curioso Rami invece Trova il mio Umorismo detonante Non ricordo Di aver richiesto Che tu monitorassi Questa conversazione Non vedo come La velocità di propagazione Del tuo umorismo Abbia a che fare Con tutto questo E non ricordo Di aver consentito A dare assistenza Per la costruzione Della stazione solare Eppure Eccoci qui Eh visto Neco Pure qui Scrivono minchiate Qua però Non mi ricordo Com'è arrivarci Onestamente Andiamo un attimo Dall'altro ingresso No L'altro ingresso È proprio scassato Ah Forse ho capito Che bisognava fare Dovemmo arrivare Subito qui Quando ancora C'era la sabbia Raga Ok Quindi È ipotesi scartata Eh vabbè Vedo se possiamo utilizzare Vabbè Solo lo vedo Per lo grandicello Facciamo una cosa Vediamo se riesco a fare Questa cosa in tempo Andare su Quel meteorite Visto che il sole Si è ingrandito parecchio Il ghiaccio Si dovrebbe essere sciolto Per permetterci Di andare Dentro In tutti i sensi Da un po' Eccolo lì Eccolo Eccolo Porca di quella Puttana Ragazzi No ma Mi è che sto per morire No È assurdo Sto pilota Automatico Mi stava per buttare Una seconda volta Dentro al sole No 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 Che palle Eh vabbè Che palle Cristo Oddio Andiamo a suicidarci Eccolo 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 Qual è il problema Possiamo ritornare In vita A proposito Avete capito Il procedimento Di Cioè Qual è il procedimento Che ci riporta In vita Vediamo se L'avete capito Vi do un suggerimento È un procedimento Che avete visto In un anime No no Ruby Un altro Vi parlo di procedimento Tecnologico E a questo punto Si Conviene andare Subito Sul pianeta Quello là Con la sabbia Sì Seisgate Raga Esattamente Seisgate Mi parlo A livello Di C'è Una parte Della tecnologia Ok Allora Siamo qua Arrivati in anticipo Perché questo giro Non voglio Rischiare Ok Siamo Atterrate Ok Non ci resta Che attendere Un po' Eh Il problema Adesso è Quanti minuti Bisognerà Aspettare E ammetto Che questa situazione Non l'avevo Calcolata Ok La sabbia Ha incominciato A spostarsi Ottimo Cerchiamo però Di non farci Risucchiare Che poi Seisgate È molto Bello È veramente Un sacco Bello All'inizio È molto Lento E non Se doveva Parare Poi è diventata Una figata Allucinante Allucinante Ma se bello avrei fatto passare un po' il tempo in avanti Sto cominciando a pentirmi Della mia scelta Che bella sta live Rilassante Mentre vedete uno su Che cammina sulla sabbia Con i piedini Ecco prima o poi andrò su quel cavolo di meteorite Quella ragazza è la stazione Che dobbiamo arrivare lì assolutamente Quando cazzo ci vuole per la sabbia Dai dai Succhia Succhia è più di una ninfomane in calore Brasiliana Vai succhia 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 Tutto quello che c'è da succhiare Vai 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 Nessuno ti giudicherà Succhia Cazzo a te Poi se preferite possiamo dire anche l'infomane Giapponese Anche perché per i miei gusti preferisco più le giapponesi E aspettiamo che La succhiata Deve durare un altro po' Madonna mia Ora avete capito Perché questo gioco non è per tutti Pensate che Non so quanti anni ci hanno messo A creare Questo videogioco Che poi hanno utilizzato gli unity Cioè complimenti Raga non è facile A creare un sistema Solare No Con i pianetini Ah avete visto ragazzi Guardate lì Avete visto Qua Poi qui Qua Qua Sono tutte Ragazzi sono tutte stelle Che stanno esplodendo Sono le super nove Avete visto quante ne stanno avvenendo Qua un'altra Stanno morendo tutte le stelle Raga Sta morendo l'universo Eh qui Qua Qua Grazie ragazzi Voi le vostre battutine Magiche Oh e intanto Ancora Niente da fa Bisogna ancora aspettare Un po' E ma sa Cazzo Avevo Dimenticato Che c'è La questione Dell'ossigeno No La nave è stata All'altra parte Guarda Adesso moriamo Madonna Santa Vediamo se riesco a andare Dall'altra parte Un attimo Dai Succhiami Ottimo Ma dove cazzo Sta la nave Ragazzi Quasi adesso vado Su solo E mi metto a ridere Scendi Cazzo A te Scendi Madonna Poi faccio Il giro del mondo A sapere Lo aspettavo Dentro la nave Ok Allora Ok Si stanno Si Si stanno Ok Stanno incominciando A liberarsi Ecco Ecco il sole Mannaggia La miseria No Porca A te Madonna Mia Santa Ma mi sa Che non ce la farò In tempo Maledizione Una Dove fa per forza così Dai forse c'è la faccia Non morire Madonna Madonna Allora Volendo Poteva anche Evitare Di aspettare Tutto quel tempo Mannaggia A me Ah Questa Yuki Come va Tutto bene Che ci piace anche a te Questo giochino Di viaggiare nello spazio Ora preparatevi Perché stare vicino al sole Ha un grande Ecco Ecco ragazzi Siamo arrivati 3 2 1 Un madonna Ok Siamo dentro Alla stazione solare Allora 9 minuti Allora Ecco Leggete qui 9 minuti 4 secondi fa Rilevato incremento Dell'attività solare Integrità dello scaffolo Della stazione solare Prossima a livelli critici Chiusura Porta d'emergenza Allora 281 Mila Anni fa Nessun comando Utente ricevuto Per 10 minuti Tutti i sistemi Cioè Avete capito Cioè I no mai Sono morti 281 Mila Anni fa E adesso Voi vi state chiedendo E come mai sono morti tutti Eh Lo scopriremo Ora dobbiamo stare Molto attenti Ragazzi Vedete Madonna santa No 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 Cazzo Non andare il sole Porca Togliate Non andare il sole Ok ce l'hiamo fatta Mamma mia Che ansia Ma voi avete visto il sole Quando cazzo è vicino Ragazzi Guardate là Missione La scienza Ci obbliga A far esplodere il sole Possiamo modificarla Non posso lavorare così Questa affermazione Descrive una missione Marsana Ma è accurata Crederemo una supernova In nome del progresso scientifico È la nostra missione La nostra missione È capire se una tale Irresponsabile L'impresa Sia quantomeno possibile Ne ho una migliore Missione Determinare se è possibile Indurre il sole A esplodere Non è il senso dell'umorismo A me non mi manca Il senso dell'etica Ti prego di non esplodere Come una supernova Davanti a me Prima che lo facci Sole Idea Quindi I nomai Cioè il loro obiettivo Era quello Di far esplodere il sole Farla diventare Una supernova Però Hanno fallito Nel loro compito Questo Dovrebbe esserci alto Forse No un attimo No nient'altro Ora dobbiamo scendere da qui Madonna Vedere il sole Qua vicino Ragazzi È proprio Un'ansia Allucinante Tempo approssimativo Prima della distruzione Della stazione solare A causa dell'espansione Della stella Un minuto 8 secondi Tempo approssimativo Prima della morte Della stella 12 minuti Oddio Ma quello Devo sbrigarmi Raga Questa Quale Il sole Ci fa morire Porca troia Ci deve essere Qualcosa Da prendere Perché abbiamo Un minuto Cristo Eccolo Ehm Mi sa che non abbiamo Il tempo di vedere Ma che diceva Ah evacuare La stazione solare Eh prima Prima che siamo qui Allora cosa è successo La stazione solare Non ha effettuato Il lancio Il lancio è venuto Iarva Ma è fallito Il sole ha reagito Solo minimamente Ho registrato Dei piccolissimi Cambiamenti superficiali Ma erano A malapena Percettibili Perfino Al terzo Occhio La stazione solare Inutile Non potrebbe mai Ne causerà Mai l'esplosione Del sole Non so cosa fare Ora amici miei Suppongo che Dovremmo iniziare Dal principio Ma non saprei come Sono dispiaciuto Per voi amici Sappiamo tutti Quanto abbiate Lavorato duramente Posso solo Offrire la mia Compassione Come stai Come stai Dea Stiamo bene Iarva Almeno tanto bene Quanto si possa immaginare Ma siamo delusi Ero contrario all'idea Di far esplodere il sole Ma non avrei mai voluto Vedere fallire Il dispositivo Speravo che Il nostro terribile Lavoro fosse Terminato Innanzitutto Ritorna Sul gemello cenere Amico Forse cambiare Compito ti aiuterà Spire ha notato Una cometa Che si sta avvicinando A questo sistema stellare E vorremmo Esaminarla Madonna Qua mi sa che Siamo morti Sì Perché siamo troppo Vicino al sole Ah Questo è sempre Eh sì Questo è sempre Il famigerato Progetto Gemello cenere Che prima o poi Noi andremo Mi sa che la morte È arrivata Quanto manca? Quattro secondi Eh sì Porca troia Raga Mamma Eh siamo morti A causa del sole Per la Seconda volta Però abbiamo scoperto Altre informazioni Importanti Se non l'abbiate Ancora capito Il nostro Obiettivo È quello Di capire Perché Siamo in questo Loop E come Smettere Questo loop Infinito Allora Abbiamo Tenuto Un sacco Di informazioni Controlliamo Ok Un sacco Di informazioni Importanti Allora Che dice Qui Due dei nomai Individuarono Una fenditura Nel ghiaccio Sulla parte Rivolta Versi il sole Di intruso Decisero Di calarsi A suo interno Per esplorarla Allora In poche parole I nomai Sono andati Su intruso Che sarebbe Quel meteorite Perché Avevano Accappato Dei strani Segnali Ok Però Noi dobbiamo Andare qua Allora I nomai I nomai Pianificarono Di realizzare Su gemello Scenere Una tecnologia In grado Di produrre Un intervallo Di tempo Negativo Di 22 minuti Il nucleo Di curvatura Avanzata Una volta Provato Venne installato Nel compartimento Centrale Di gemello Scenere I nomai Riuscirono A riprodurre Con successo L'anomalia temporale Precedentemente Rilevata Dalla stazione Del buco Bianco Riuscendo A tracciare La comparsa Degli oggetti Distorti Dalla curvatura Prima che Scomparissero I nomai Scoprirono Che l'intervallo Temporale Negativo Tra la comparsa E la scomparsa Degli oggetti Poteva essere Aumentato Incrementando L'energia Dei nucleo Di curvatura I nomai Cercarono Di scoprire Se l'intervallo Temporale Negativo Potesse Raggiungere I 22 Minuti La loro Conclusione Fu che Sarebbe stata Necessaria Una tecnologia Nuova Per produrre L'energia E un nucleo Di curvatura Più avanzato Per controllarla Allora La stazione Solare Era stata Progettata Per trasformare Il sole In una Supernova La stazione Solare Attivata Dai nomai Non produsse Gli effetti Previsti Sul sole Alla fine Decisero Che la stazione Solare Non avrebbe Mai potuto Trasformare Il sole In una Supernova Dopo il fallimento Del progetto Della stazione Solare I nomai Si dedicarono Allo studio Di una Nuova Cometa Uno dei Computer Nomai Riporta Che il nostro Sole È giunto Alla fine Del suo Ciclo Di vita Naturale Quindi raga Non si può Fare interrompere La morte Del sole Quindi La nostra Morte Non può Essere Evitata Che bello No? Vabbè qua parla Del fossile Che si può Cioè spiega Come evitare No? Queste rane Pescatrici Qua vabbè dice Il fatto è che ci sta Un numero Di supernova Insolitamente Elevato Rispetto alla norma Che bello È Crystal Qua mi sembra Che ci sta qualcosa Che non ho letto Forse Può essere Che non ho visto Proprio tutto Tutto Vabbè Non è che mi interesse Più di tanto Gli effetti Dovremmo informarci Anche sulla luna quantica Allora Ah Questo Aiuta a trovare La luna quantica Ok Però secondo me Devo Devo analizzare Anche gli altri Segnali quantici Trovare la torre Della conoscenza Quantica Ah In effetti Qua non ho continuato La mia Esplorazione In effetti La navetta Non è Dalla luna quantica Cavolo Devo farla Sta cosa Allora Ritorniamo un attimo Su vuoto Fragile Pensavo di schiantarmi Un'altra volta Ah vero Qua ci sta anche la luna Che in effetti Potrei visitare Andiamo sulla luna Va Lanterna cava Che bella No ragazzi Sta luna Fina di lava Madonna mia Qua secondo me Ora faremo Effetto morte Alla Sun Style Guardatelo Quanto è bello Raga Altro che La luna Nostra Che è troppo Standard Ok Avete visto Lì Si può Entrare Ora Vediamo un poco Di non morire Eh Tu faccio la distica a farsi Cazzo Se mi Se mi arriva quella roba in faccia Arrivederci Attenzione Attenzione Forse non dovrei Allora secondo me non dovrei entrare proprio con la navicella Vediamo però se riesco Vediamo se riesco a bloccarla così No Non riesco a bloccarla così Cazzo Ok 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 No Avvicinati Al cazzo di luna Grazie Qua però devo aspettare un attimo Che sennò qua mi arriva Una schizzata di lava in faccia Wow Conclusione Allora Luogo attualmente in ospitale Si raccomanda l'evacuazione Rilevato incremento dell'attività vulcanica E anche dell'attività solare Questo è Pure lignoso Ah il nostro pianeta Cosa fa a vedere? Ah Questa è la miniera Vabbè l'abbiamo già vista Però Eh vabbè Mi sta venendo in mal di testa Vediamo un po' però Cosa dice Amici nelle miniere di cuore legnoso L'ultimo tipo di minerale Che ci avete mandato È quello che resiste di più Al contatto diretto con il calore Ce ne mandereste ancora Così potremo eseguire altri test Stiamo cercando di migliorarne la durabilità E la nostra forgia ha già divorato tutto quello che ci avete mandato Consegneremo immediatamente altro minerale a lanterna cava Sarete entusiasti per la realizzazione del guscio protettivo del progetto gemello cenere Grazie Grazie immagino che presto avremo anche una stima aggiornata sulla quantità di minerale necessario Per sigillare il progetto gemello cenere Sarà più del previsto? Molto di più Anche una minima crepa o fessura nel guscio protettivo distruggerebbe tutto Sì l'idea di rivestimento in grado di resistere Seppur brevemente A una supernova Ha stuzzicato la mia curiosità Quindi i ragazzi hanno creato un guscio Che resiste Ad una supernova Ora bisognerebbe però capire come arrivarci Ma non so se dall'altra parte c'è qualcosa Vediamo un po' No forse niente Ah sì Steffi per quanto riguarda il VR Hanno creato una mod Per poter giocare a questo gioco in VR Ti giuro io comprerei il VR Solo per poterlo rigiocare col visore Ti immagini che cazzo di esperienza? Mamma mia Ma poi vi immaginate col VR a morire con il sole? Mamma mia Cagherei sotto Qua ci sta qualcosa di interessante? No Qua invece Vediamo l'ultimo cratere No 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 Ma il cazzo Madonna meno male che siamo atterrati qui raga Meno male Ma c'è qualcosa qua? Ma non c'è niente Ah non c'è niente proprio Giusto che non c'è niente? Ma sa di niente Ehm Vediamo un attimo di andare lì Se riusciamo Ti prego non morirmi Non sarà facile arrivare là Eh ma sa che siamo fottuti Ah no 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 forse no forse no Scendi testa di cazzo Scendi 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 Madonna il carburante è pure quasi del tutto finito Devo trovare assolutamente Quella zona là per richiamare la navicella Dalla luna E riportarla qua Ecco la nostra luna Non preoccuparti mica mia Prima o po' ti raggiungerò Allora, 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 allora Io quando giocai a questo gioco un annetto fa con le mie ragazze in privato Vi giuro ragà Io sudavo freddo e mi cagavo sotto Perché io soffro di claustrofobia Degli spazi diciamo Chiusi o comunque in quegli spazi in cui tu vedi il buio totale Cioè che non vedi nulla E allora mi facevo nianze lo spazio Sì, sì, e ho fatto anche degli incubi In cui io vagavo nello spazio infinito Anche se io lo spazio l'ho sempre trovato affascinante Nello stesso tempo, eh Ammetto che mi piacerebbe volare Nello spazio, no? Per vedere proprio il pianeta Terra Che è una pallina piccola piccola Ecco, in modo Dove cavolo dobbiamo andare? Ah, aspetta No, quelle lascia Ah, cazzo Quelle lascia l'uppa di salvataggio Sembra dalla navicella Però potremmo andare lì, in effetti Ora devo saltare normalmente Ah, lascia la petruzza E ma come cazzo arrivo lì Ah, agorafobia Ok, Sefi Ok, vuol dire Significa che sei più tu che me I termini precisi No ragazzi, non riesco Aspetta, forse riesco a fare qualcosa No, vabbè ragazzi Ma poi c'è un albero C'è un albero La nostra salvezza Ah, ma questo è un albero Che non dà ossigeno Ah Eh, stiamo morendo Eh, vabbè È arrivato l'eterno riposo Mannaggia Sapete che qua dobbiamo ritornare qua, eh Uno spazio aperto Lo spazio Eh, Stefano Non ha proprio tutti i torti Mamma, come siamo affascinanti Sì, che poi Che poi in teoria È il riposo eterno Ma non stiamo riposando affatto Ah, c'è proprio un termine preciso Ma pensate In effetti Era meglio se andavo a controllare un attimo Quello che abbiamo scoperto Vabbè, atterriamo prima E poi vediamo Ah, ok L'ha la navicella L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata Buono, 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 buono Ma mi ho sempre avuto difficoltà Ad atterrare con sta navicella Una cosa assurda Fermati Ok Mamma, che atterraggio Cosa abbiamo scoperto prima? Ah, questo Questo vulcano Sono stati inviati Dei campioni di minerali Provenienti Dalle minerade Nomae Sul corinconso Per effettuare Dei test sulla durabilità E Nomae stavano provando A realizzare Un guscio In grado di resistere Brevemente A una supernova Per proteggere Il progetto Gemello Cenere Anche una minima Crepa o fessura Nel guscio Protettivo Distruggerebbe tutto Quindi Questo nucleo È stato creato Per proteggere Il progetto Gemello Cenere E in effetti Noi dovremmo anche Scoprire Cos'è Questo progetto Gemello Cenere Ok Qua è per la navicella Perfetto Perfetto Richiamiamola subito Mannaggia Mi devo sempre Spezzare le gambe Assurdo La navetta Al momento Sta riposando Sulla luna quantica Ok Chiamiamola Quindi qua Nella vettina nostra Eccola qua In che senso Voti che lava Sefi In che senso Allora Cosa dice qui Sono qui Dopo averla Vista vagare Nei cieli Così a lungo Sto per atterrare Per la prima volta Sulla luna quantica Come avrei visto La mia navetta È atterrata Al polo sud Della luna Proseguirò Il viaggio a piedi Non sappiamo Perché la luna quantica Accolga sempre Sui visitatori Al polo sud Ma è così Quando ero Una bambina Questi misteri Mi mettevano i brividi Ora invece So che non c'è Da preoccuparsi L'universo è E noi siamo Sono pronta Non dice Non dice Nient'altro Non aspettavo Maggiori conoscenze Lo ammetto Lo devo ammettere Ragazzi Sarebbe anche Inutile Cioè viaggiare Perché noi andremo Direttamente Nello spazio Già lo so Ritorniamo Sulla nostra nave Guardate che qua Ci sono delle cose Che potremmo Escolare Vediamo un po' Se c'è qualcosa Di interessante Da leggere Ah è vero Ora che ci sto pensando No c'è la questione Della torre Vi ricorda Della torre Che noi non possiamo Arrivare Cioè noi non ci possiamo Arrivare Perché è rotto Dovremmo prendere Un'altra strada Per arrivarci No non mi ricordo Come si faceva Vabbè qua intanto È tutto scassato Ecco stavo anche Cadendo di sotto Ah l'abbiamo già letto Ok allora non mi ricordavo Vabbè ritorniamo lì Che dobbiamo salire sopra Dobbiamo andare Dove sta La roccia Che viene dalla luna Meno male che qua C'è un po' Di ossigeno Ah questo è vuoto Fragile Vediamo un po' Qua mi sembra Che non l'abbiamo visto Ah Ecco La cima della torre Dove dovremmo andare noi Eh Sarebbe interessante Capire come arrivarci Sono la navetta Sono pronta per il Pellegrinaggio Che stavo facendo Che stavo facendo Era giusto Era giusto Allora il percorso No 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 Madonna mi stavo Per andare Stavo per andare Direttamente nel Bucherellino Oddio Ah C'è Si ripara da solo Ok a ovest Croce via Vediamo un poco A ovest Ok sarebbe per di qua Ciao Stefi Buona buona cena Ma perché con nessuna Raga Cazzo Stefi Cena prima di me Alle sette proprio Me coglione Allora cerchiamo Di arrivare alla torre Prima che Vada a sprofondare Anche se ho i miei dubbi Presumo che debba Seguire le lucine No Le lucine Saranno la via Almeno lo spero Forse il percorso è giusto Ti prego dimmi di sì La cosa dice Ma ragazzi Non so se questa Era stata giusta Sono sincero Ah si sale Si scende Ma come sa che Siamo ritornati Da quello che sta suonando Eh si Come sa che Siamo ritornati Eh no Non è certamente Il percorso Che speravo C'è Eccola La torre Porca Cotoletta Vado un attimo Dal nostro amicone Che suona Vediamo un po' Se possiamo ottenere Altre informazioni Allora Vabbè questo non mi interessa Ma ho già saputo Ecco Ho visto la città sospesa Su vuoto fragile E scorta la città sospesa Ma è fantastica Com'era Favolosa Bellissima Oppure faceva paure No Mai hanno fatto Della città sospesa Il loro insedamento Permanente Qui su vuoto fragile Era il loro insedamento Più all'avanguardia Ma perché abbiano deciso Di costruire il loro insedamento Più avanzato Così vicino Tu sei cosa Proprio non lo capisco Probabilmente Per un no mai Cose del genere Avevano un senso Insomma Magari il buco nero Gli tornava utile Per qualcosa Vuol dire che c'è Un'altra città Dei no mai All'interno Di gemello braci Ma è incredibile Un'altra città E non ne avevo idea È fantastico Come hanno fatto Con quella sabbia E avrei avuto Una paura matta Di morire nelle caverne A casa di quello Spaventoso fiume di sabbia Caspita I no mai Non mancavano certo Di ingegno Per essere riusciti A costruire Un insedamento Sotterraneo La città ombra Wow Questo implica Che c'erano Due gruppi di no mai Uno su gemello braci E uno su vuoto fragile Ma i no mai Devono aver viaggiato Per tutto il sistema solare Visto che i loro scritti Sono stati ritrovati Anche su altri pianeti Ah buono Mi sono segnato Il suo segnale A volte lo dimentico sempre Eh il problema Sarà lì Raga Ah no aspetta A me potrei fare Un trucco adesso Facciamo così Ah A parte che possiamo mangiare Un marshmallow Raga Bello no Come passare il tempo Ci facciamo la pancia Di marshmallow No in realtà Possiamo fare un pisolino Facciamo passare due minuti Vediamo se Quella torre è sprofondata Nel buco bianco C'è nel buco nero Per uscire dal buco bianco Sta ancora là Ma perché voi Di solito A che ora andate a mangiare Raga Visto le 20 Eh cazzo C'ho una fame Raga Purtroppo non posso mangiare Deve aspettare E sta ancora lì Oh raga Io invece non so Per nulla cucinare Non so Neanche fare un piatto Di pasta in bianco Pensate un po' Oh è andata È andata Grazie mille Grazie mille Allora Andiamo a dirigirci Subito Su quella cazzo Di torre Madonna Questo cazzo Di buco bianco È bianco In tutti i sensi Allora Vediamo un poco Di riuscire a beccarlo Dove No non è Quello Ma sa No Ma quella è la È la stazione Del buco bianco Ma la torre Dove cazzo Ah eccola La torre Spero di avere Abbastanza tempo Per vedere Delle cose Sì sì E questo qua E questo qua No Ma non è questo No ma non è questo Come può Ah Eccolo 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 Eccoci qua Attenzione Questo è un trucco Per poter Andare sulla torre Senza Eh Cazzo Cioè È un casino Però così Allora Ci deve essere qualcosa Che potremmo prendere Forse è più sopra Vediamo un po' Ok Là c'è una pergamena Ehm Vi sta venendo un po' Il mar di mare Ragazzi Non vi preoccupate Tutto nella norma Ok Interessante Facciamo una cosa Vediamo un attimo La pergamena Che avevo ad occhiato Però qua Mi devo sbrigare Vieni qua Cioè Cosa cazzo Mi tocca fare Madonna mia Allora Se sei qui Per il tuo primo Pellegrinaggio Alla luna quantica Sei quasi pronto Per affrontare Questo importante viaggio Prima di partire Fermati E ricorda Il passato Non compiamo Allora Non compiamo Il viaggio Solo per noi stessi Ma in memoria Dei membri Del nostro clan Che vennero Prima di noi Coloro Che dopo lo schianto Che li portò A questo sistema Stellare rimasero bloccati Sul vuoto fragile Su gemello Braci Senza che due gruppi Di sopravvissuti Potessero comunicare Tra loro Questi nomai Pur essendo Su penete diversi Vedevano la stessa luna Affacciarsi sulle loro notti Quando alzavano Lo sguardo al cielo Era questa luna La luna quantica A tenere viva In loro la curiosità Durante quel lungo E austero periodo Dopo che quei due gruppi Separati Riuscirono a ricongiuggersi Lo scopo del nostro clan Divenne trovare Il modo Di far visita Alla luna quantica Ciò richiese Morto tempo E tanti nomai Che sognavano Di mettere i piedi Sulla luna quantica Morirono Prima che venisse Scoperto un modo Per compiere Quel viaggio Se riusciamo a leggere Grazie Mentre se in viaggio Verso la luna quantica Ricorda quei nomai E porta con te La loro curiosità Anche se non è che Abbiamo ottenuto Proprio informazioni Utilissime Benvenuta Solanum Il tuo arrivo Qui significa Che hai completato La tua preparazione Su un profondo gigantesco E sei pronta Per partire Verso la luna quantica Durante il tuo Pellegrinaggio La luna quantica Ti porterà Così come ha portato Me e molti atti Del nostro clan Alla sesta posizione La più segreta Durante il tuo Pellegrinaggio Ti sarà d'aiuto Il tempio costruito Dal nostro clan Sulla luna quantica Ma ricorda La regola finale Per esplorare Il stesso luogo Il tempio Si deve trovare Al polo nord Della luna Intrapendi Il tuo viaggio Con curiosità Quindi ci sta Un tempio Da esplorare Alla luna quantica Ma Però qua vedo Che c'è Qualcos'altro Da vedere Però Ecco A livello di carburante Critica Questa è una cosa Non proprio positiva Contro l'acqua vicino Ma strano Che non ci sia niente Molto strano Ah Potrei anche girarmi In effetti No ma che sta esplodendo Il sole Mannaggia La puttana Perdonate La volgarità Ragazzi Ma che cazzo No Dammi l'ultima cosa Da leggere Ma dove cazzo sta Dai ma non ci voglio Credere Io non ci voglio Credere Ragazzi Cioè c'è C'è una cosa Qui da leggere Ma non so Dov'è Eh vabbè Niente da fare A me sa che siamo morti Prima del previsto Qua Ok E mo E beh E l'eterno di pose È arrivato Però è troppo strano Che non c'era nulla Molto strano Eh a salute Comunque se volete essere presi come i pochi personali Se siete delle lolli E vi fate pagare con il mio amore Allora è tutto ok A disposizione Dai ma è possibile Che questo sia stato un viaggio inutile Dai no Mi rifiuto di Di accettarlo Allora non mai hanno costruito un tempo sulla luna quantica Per raggiungere la sesta tappa del pellegrinaccio E noi come cazzo arriviamo qui adesso Allora ma innanzitutto penso scoprire i segnali quantici Allora Quello ci resta uno qua Da queste parti Ah no qua l'abbiamo già visto mi pare Sì qua l'abbiamo già visto Ok Allora Ritorniamo un attimo su Su vuoto fragile Questa volta vado direttamente per Per Il segnale quantico E poi andiamo su un altro pianeta Che ancora non abbiamo visitato Ma non aspegno Perché l'altro No l'altro segnale Mi sa che Oddio È un luogo che non abbiamo visitato ancora Mi sa Cioè l'abbiamo visitato per metà Che palle Che palle Mi sto cercando Il segnale di quella maledetta roccia Ah Quindi Quindi praticamente Yuki per me Saresti già una milf Azza Che scoperta Ah ecco era qui Era qua la Non cazzo è scomparsa Ah eccola Ok Frammento della torre Perfetto Cioè visto che è sfigata che si sposta Regà Che poi sposta anche le cose intorno a lei Dai sali sali Mannaggia Perché devi farmi perdere tempo Eh pure la mia ragazza ormai mi ha scammato Purtroppo Allora Qua mi ricarico Profondo gigantesco Ah ok Allora non è qui proprio Allora Gemelli Cressidra E profondo gigantesco Profondo gigantesco Vogliamo far visita A profondo gigantesco Allora Ecco raga Profondo gigantesco Attenzione a non Schiantarci Eh si rubi Purtroppo ormai La mia ragazza Sta diventando anche una vecchietta Eccoci Profondo gigantesco Ma a proposito Vorrei un attimo andare lì Se riesco Ma quelle gemellocine No non mi interessa Questo per esempio Non l'avevo mai esplorato Raga preparatevi Perché è un pianeta Un po' particolare Allora io vorrei andare Anche lì sopra Se riesco a fermarmi Ma niente da fare E siamo arrivati Cazzo Bello No raga Un pianeta Tutto fatto d'acqua Però purtroppo Non riusciamo Ad andare Al di sotto A causa Delle forti Corrente Ah questo Ah questo è un pezzo Di rovo scuro Sì sì Madonna Ragazzi avete visto Che cazzo di cosa Allora Iniziamo a esplorare Un po' Ma qua ci sta qualcosa Da vedere Infatti Perfetto Cavolo Allora di là Ok Allora Andando lì moriamo Qui Qua è sicuro Figo eh Cristal Ora cerchiamo Di no Sprofondare Però Cazzo Allora qua Ok qua si muore Qua Pure Qua è sicuro Allora Ok tutto dritto Allora qua c'era un falò Oh buono buono Grazie Quindi qua ci stava un viaggiatore Raga Ok Non ricordo se ci stava altro da fare Qua però Ah ecco ecco Reggio numero 4 Annotazione numero Bo Schianti 2 Schianti seccanti 0 Quando tornerò Devo dirla Slate Dritto fino al nucleo Consideri di conquistato Profondo gigantesco Si è stato Fed Spatizzato Non per vantarmi Ma questa è stata una delle mie imprese più spettacolari Non ci credo Non ho preso la scossa Non vedo l'ora di raccontarlo A scogliocorne A gossam Sembra che la forza bruta Non si sembra la soluzione Bene Con questo La lista si accorcia A quanto pare è rimasto il più grande Rovo scuro Sto arrivando Ok questo ci fa capire Che doveva andare a rovo scuro Ragazzi guardate qui Che meduse gigante Oh madonna Spera che No 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 Qua devo stare attenti Se questo ci succhia Mi sa che ci ha succhiati Sì Porca di quella Allora in realtà Non è neanche un male Perché devo andare In un determinato luogo Se riesco ad arrivarci E riesco a non morire Allora No 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 Eh vabbè E siamo Cioè giustamente Questo mi fa riuscire Vabbè in un luogo Ma porca miseria E siamo morti Che bello Eh Volevo farvi vedere Un'altra cosa E non ce l'ho fatta Ma perché Nella vita reale Non esistere Una tecnologia simile Così non si ha più Paura della morte Allora Un'isola che sembrerebbe Essere una medusa Congelata Pina di rovi spinosi Sembra che Frespato Abbia allestito il suo Accampamento qui Prima di dirigersi Sul rovo scuro Frespato ha trovato Un modo per raggiungere Il nucleo di profondo Gigantesco Ok Frespato ha fatto rotta Sul rovo scuro Dopo aver raggiunto Il nucleo di profondo Gigantesco Robo scuro Non so se andarci Potremmo anche andarci In verità Facciamo così Allora Questa ora È per facilitarmi Il compito Allora Ecco ragazzi Guardate qua Guardate qui Che cazzo di figata Allora Ehi Sassolino Pensavo che oggi Partissi per lo spazio Con quel tuo barattolo Cosa ci fai ancora qui Io Ho visto qualcosa Che andassi all'orizzonte E non mi è piaciuto Ciò che ho visto Nelle foto Inviate dal mio piccolo scout Allora Quello è un seme Di rovo scuro Tu credi Non ho mai visto Niente del genere Su cuore legnoso Per cui Hai fatto una bella scoperta Di qualunque cosa si tratti Attecchito in fretta Questa roba Ha qualcosa che non va Sassolino Questo è certo Chiederò a Marley Hall Di lavorarci su Sì Questo è un seme No È una pianta potenzialmente Pericolosa E non voglio che nessuno La tocchi Se prima Non ho un'idea precisa Di quello che può Nascondere al suo interno Tufu Può aiutarmi A trasportare qui Il vecchio lanciasonde L'apertura è troppo piccola Perché possa entrarci qualcosa E ad ogni modo Questo seme Ha un aspetto Così sgradevole Che non ho intenzione Di infilarci Dentro le mani Alla cieca Ci si potrebbe anche Rimettere un braccio o due Allora Guardate qui Guardate qua Si sta Guardate Guardate Ok È rimasto lì Guardate qui ragazzi Ci sta Il segnale che si è duplicato Guardate là Distanza 15 chilometri Ora dobbiamo lasciare La sonda teletrasportata lì E seguire il segnale Hai visto che cosa What the fuck Crystal Questo è il pianeta Ghiacciato Che è stato distrutto Da questa pianta Vedete È un seme Purtroppo è andato anche sul nostro pianeta Purtroppo E questo farebbe capire Che il nostro pianeta È in grave pericolo Ok Siamo arrivati Ora preparatemi A vedere le figaggini Allora Guardate dove cazzo siamo Allora Siamo in un luogo Molto pericoloso Sappiatelo Ma porca misera La rana pescatrice Bell'inizio Vero Annaggia Non ricordavo Che ci fosse già Ricordavo Che ci fosse più avanti Siamo stati pappati Vabbè Ci dobbiamo ritornare Vero Vero Che il posto È Ah In effetti potrei lanciarlo Anche da qui Vediamo se riesco a farlo Vediamo Vediamo Un attimo ragazzi Cerco di lanciarlo da qui Senza scendere Cazzo per poco Dai Riuscirò a centrare il buco? Eh A ver cavolo Ok Prima o poi Il buco Viene centrato Non trovate? Devo riuscire A non A non morire E certo E certo Yuki Però il problema È che In teoria Non puoi ritornare in vita Poi non so Se tu ti riferivi A A centrare il buco Ok Riproviamoci Allora Ragazzi Il trucco in realtà È molto semplice In realtà Basterebbe Avanzare Così Non mi ricordo però Se ti puoi anche girare Forse sì Ecco Avete visto? Che cazzo E siamo morti di nuovo Allora Qua mi sa Mi sa Che o mi devo dirigere subito Però No Non ce la faccio in tempo Perché comunque mi insegue Devo aspettare un po' di tempo Raga Che la nave avanzi Senza che io faccia nulla E poi Però che palle Pavigiorno Non me lo ricordavo Che ci fosse già una rana pescatrice All'inizio Ok Allora La rana Ah ma dice La scremata Dello scout E quella è una rana pescatrice Morta però Attenzione Qua ce ne stanno di vive Infatti Le rane pescatrici Vivono qua A rovo oscuro Noi infatti Tramite quell'altro pianeta Con la sabbia Noi scopriamo Che per evitare le rane pescatrice Bisogna non fare rumore Perché sono cieche Ci sarebbe un metodo Quello là di camminare Molto Cioè camminare Cioè avviare la navetta Molto Molto lentamente Però il trucchetto Sarebbe quello Di aspettare un po' Perché comunque La navetta Avanza E poi Muoversi Vediamo di riuscire A Farcelo a primo tentativo Vediamo di riuscirci Madonna mia Non lo toccarichi Lì sta a te Ma forse Mi conveniva andare Direttamente lì Fin dall'inizio Ragazzi Perché se ne accorgono Madonna Santa Cioè mi sono schiantato Ragazzi Mi sono schiantato Tutto di lui Vabbè mi dobbiamo muovere Mi dobbiamo muovere No 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 Madonna ragazzi Che culo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Allora Il problema No forse Non è Ok Questo è il punto Non ci interessa Il problema è che la navetta E' pure mezza rotta Non vi preoccupate Che stiamo arrivando Raga Eccoci qua Vedete Siamo arrivati Madonna mia Ora cerchiamo Di non crepare Eccola Ecco Frespato Ancora vive Vegito Ma non è che è così Tranquilla Fammi giusto Segnare Ok Il segnale suo Accidenti Da dove arrivi Qui non veniva Nessuno da Beh mai In effetti Ciò significa Che sei il secondo Temporiano Ad aver mai raggiunto Robo scuro Dopo di me Naturalmente Ottimo lavoro Beh sei tu Sei diventato un astronauta E ancora nessuna esplosione Buon per te Frespato Sei ancora in vita Non sei mai stato Il sassolino più intelligente Di tutti Vero Sì infatti mi chiedo Ma come cazzo fa a mangiare Allora Sono accampato qui Fin da quando la mia nave E' precipitata Con un bel botto Questa è proprio Una gran bella storia Avevo appena finito Di esplorare Il nucleo Di profondo Gigantesco Avevo bisogno Di una nuova sfida Nessuno di noi Ha mai esplorato Rovo scuro Perciò ho pensato Dai proviamoci Stavo svolazzando Quella Cercando di tenermi Lontano Dallo strano Enorme rovo Interdimensionale Quando incrociato Un'enorme rana Pescatrice Era la più grande Che avessi mai visto Ho provato Qualche acrobazia Poco elegante Per cercare di scrollarmela Di dosso Andavo a tutta velocità Quando quel pesce Mi ha colpito Scagliandomi Contro un rovo E poi Insomma Come dicevo Mi sono schiantato Sbam Ho pensato Che le cose Si stessero mettendo male Quando al momento Dell'impatto La mia nave Iniziata a fare Dei rumori Come se stesse Cedendo L'impianta elettrica Iniziata a dimettere Scintilla All'impazzata Ma alla fine Ne sono uscito Giusto in tempo Allontanarmi Dalla mia povera nave Distrutta Era una questione Di vita o di morte Per cui l'ho fatto Più in fretta Che ho potuto Inizialmente Mi sono accampato Vicino al punto In cui è precipitata La mia nave Solo in seguito Ho rinvenuto Questo scheletro Una scoperta grandiosa Sarebbe stato stupido Non sfruttarla Per cui ho spostato L'accampamento Qui Ho piantato I miei semi Di alberi Di emergenza Sono qui da allora Avete capito Semi di alberi Di emergenza Ok Ho trovato qualcosa Ho trovato un semi Di rovo scuro Su cuore legnoso È una faccenda pericolosa Sassolino Se guardi nella direzione Di rovo scuro Certi ti confermerai Che c'era un quinto pianeta Nel luogo dove ora Si trova il rovo Capito Il pianeta dove stiamo adesso Che ormai è stato distrutto Quella pianta infernale È comparsa proprio nel mezzo Continuando a crescere Di smisura Fino a distruggere il pianeta E disperdere I frammenti dello spazio Questa idea del seme Che esce una pianta gigantesca Che mangia i pianeti L'ho già intravista In un anime Tanti tanti anni fa Anime bellissima Però ora non vi dico il nome Perché rischierei di Cioè questo comunque Era uno spoiler Quindi non posso adesso Consigliarvi l'anime Comunque veramente Un anime Con le palle quadrate Ho il sospetto Che cuore legnoso Subirà la stessa sorte Se non ci occupiamo In fretta del seme Che hai ritrovato E sai che ti dico Noi i temporiani Non ne abbiamo passati troppe Per farci fregare Da uno stupido seme Ho trovato uno scritto Dei nomai Dice che le rane pescatrici Sono cieche Ah è così Quei dannati Essere un punto debole C'è una da vera Eh buonanotte Potevi capirlo prima E che significa Che avrei potuto Raffinare un po' di più La mia strategia Per affrontarli Volando più velocemente Che potevo Comunque alla fine Non mi hanno mangiato Ehi sassalino Tutto è bene Quel che finisce bene Vero Insomma Ma ti ritrovi bloccato qui Ah qua spiega il fatto Che la sonda si ritrova In due luoghi Differenti Contemporaneamente Poi che dice L'importante Ah hai raggiunto Il nucleo Di profondo Gigantesco Come hai fatto Per il fatto Che tu me lo stai chiedendo Mi fa pensare Che ancora non ce la fai Ad arrivare laggiù Da solo Vero Dirti come fare Qui varrebbe a barare Cambiamo discorso La mia nave Si è scontrata Con un rovo Bello grosso Questo è certo Forse intenderei A fare un giro Per vedere dove finisce Arriva dove finisce La coda di questo Scheletro di rana pescatrice Nella nebbia Vedrei brillare una luce E' lì che si trova La mia vecchia nave Il percorso inizia da lì Allora Adesso andiamo A seguire Il magico percorso Caspita Mi devo un attimo Ricordare però Dove andare Da qui E invece Dove portava Non so se portano A un luogo interessante Oppure no Ah Giustamente li porta qua Va bene Avete visto che Sei ritornato all'origine Allora Ok Di qua Di qua La vedete Quella magica Lucina Ecco la sua Astronave Rotta Adesso entriamo Qui No ma poi Rubi La cosa assurda E' che bisogna Anche aspettarsi Che quegli alberi Crescano subito Ok Di qua Di qua Olè Cavolo Ecco Ecco Ebbene Ebbene Pensavo Che quei mostri Si trovassero Solo su profondo Gigantesco Laggiù si sono rivelati Davvero Efficaci Forse qui potrebbe tornare utile Anche una di quelle meduse Che saporaccia All'esterno è dura e gommosa Forse la medusa In questo modo Protegge le sue interiore Dall'elettricità Ok Ora provo questa cavità interna Della medusa Magari c'è qualcosa Con un sapore migliore Quindi cosa abbiamo appreso Che la medusa Protegge Cioè l'interno Protegge Dall'elettricità Vedete Ah e c'è qualcosa Ragazzi guarda qui C'è qualcosa qua dentro Messaggio per il felespato Non mangiarla Neanche se stai morendo Sarebbe troppo triste Se fosse l'ultima cosa Che mangerai In questo ciclo Vitale Credo che le meduse Possano tornare utili Solo come isolanti Per l'elettricità Insomma Non mangiarle Con affetto Felespato Questa informazione Ci sarà utile Più avanti Qua poi Vabbè Abbiamo finito Abbiamo finito tutto Possiamo anche Andarcene Poche parole E magari Se potesse mangiare Cris L'avrei fatto Sì uno volendo Se avesse saputo Magari il gioco Prima Poteva Tranquillamente Andare Direttamente Lì Senza la navicella E morire Sì perché Per la fin fine Trovo sempre La morte Questa mi fa piacere Vedere che Vi siete cagati Sotto prima Questa mi sa Che vado a morire Che non ho Nient'altro da fare Che ore sono Fai vedere Eh mi sa Che dobbiamo Dobbiamo salutarci Ragazzi Perché mi devo preparare Ah voi vedete Quel puntino rosso Vi state chiedendo Ma dove porta Eh posso farvelo vedere Ma non penso Che riuscirò Eh guardate qua Che ci sta raga Salve Come state Come state Ah Vi immaginate un bellissimo bacio Da parte loro Vai Yuki Compratene uno Vai Metteno nel tuo acquario Ora vi faccio vedere Un attimo Cos'è questo Segnale rosso Sembra Se non morirò Non vi preoccupate Che qua Ci ritorneremo Per forza Anche la lucina Di notte Si si Hai capito Crystal Ecco State intravedendo Cosa sono Queste cosine Che cosa sono Dovinate Non so se adesso Se mi muovo Mi sentono Aspettiamo Un altro po' Sì Ragazzi Sono uova Di rana pescatrice Quindi se volete Prendetele Così Da poterle Allevare Nella vostra Casina No Sono uva Crystal Esatto Tipo caviale Infatti In questo ci sono Un sacco di rana Pescatrice Qui Perché stanno Difendendo le uova Vedete E quando sono grosse Eh Guardate Ce ne sta Anche un'altra Qua in realtà Ci sarebbe Una cosa importante Da Cioè a livello Di segnale Però che a momento Non ho I gungan Buoni Ragazzi I gungan Il sushi Con le uova Di caviale Sopra Buonissimo Sempre le uova Di salmone Vabbè Andiamo a morire Amico mio Sono tutta tua Madone Come si è Incazzato Ci ha mangiato In un sol boccone 6 2 3 6 8 7 7 8 9 Hmmm